Lavoreremo per l'innevamento artificiale a garantirlo oggi il presidente della regione in Val d'Aveto per i dieci anni della schiarea inaugurato il ristorante al rifugio del Monte Bue. Dal 7 gennaio sarà operativa la fusione tra la Algo di Ne e l'Ammiraglio di Leivi. Nella nuova realtà saranno impiegati quasi un centinaio di lavoratori, previsti investimenti per 300 mila euro. Casarza Ligure chiede ancora chiarimenti sulla quota presente nelle bollette dei cittadini relative all'impianto di depurazione. Il sindaco si astiene sul voto delle tariffe in conferenza metropolitana. Solidarietà in musica per il villaggio del ragazzo. A Chiavari il concerto omaggio ad Ennio Morricone con l'orchestra Chiavari Classica e l'associazione Simon Boccanegra. Cicagna, il gusto del Natale di una volta, rivive nei caruggi del centro storico grazie all'associazione Il Piffero. In mostra gli antichi arredi della chiesa. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. Grande festa in Val d'Aveto questa mattina per i dieci anni della schiarea. Era a fine dicembre del 2008 quando veniva inaugurato l'impianto di risalita verso il prato della Cipolla. Da allora tanta strada è stata fatta, molta resta ancora da fare. Per quanto riguarda il progetto per l'innevamento artificiale, oggi il presidente della regione ha detto che si tratta di un investimento non impossibile. Sentiamo. La Val d'Aveto non è copiabile. Usa queste parole il presidente della regione per descrivere il patrimonio di un territorio da valorizzare. Non si possono copiare, spiega Toti, la bellezza di questa valle e le opportunità che offre sportive, culturali e turistiche. Lo dice oggi per i dieci anni della schiarea sulla vetta del Montebue inaugurando la riapertura del rifugio con la sua nuova cucina. Presto saranno a disposizione anche le camere per i turisti che arriveranno nella stazione sciistica. Un territorio stupendo, a pochi chilometri dal mare, un'eccellenza sulla quale lavorare. Di qui la richiesta del sindaco di ragionare sulla possibilità di un innevamento artificiale. Chiaramente siamo in sofferenza nel periodo invernale quando non abbiamo dedicate naturali. L'innevamento artificiale ci vedrebbe protagonisti su tutti i mesi e quindi garantire un indotto economico molto molto importante in una stagione dove notoriamente le difficoltà sono un pochino più sentite. Lavoreremo con il sindaco per arrivare all'individuazione di un progetto, risponde Toti, consapevole che sarà un investimento significativo che però potrà avere un ritorno forse superiore alle aspettative. Noi siamo ovviamente favorevoli a tutto quello che incentiva il turismo di ogni specie nella nostra regione. Quindi l'investimento non è un investimento impossibile da immaginare. occorre ora individuare amministrativamente la strada giusta, ovviamente percorrere tutta l'iteramministrativo che riguarda poi i permessi, il parco e quant'altro e trovare anche una fonte di finanziamento. Però devo dire che non è irragionevole pensare di poterlo fare anche in un periodo abbastanza breve. Il fatto che ci sia una località in cui si può sciare anche a un buon livello di impegno con la pista rossa, con i rifugi e anche per un lungo periodo di tempo, a distanza di poche decine di chilometri dalle nostre spiagge più importanti, dal colpo del Tiguglio, da un'offerta turistica variegata di cui la Liguria si può certamente arricchire. Quindi ci lavoreremo. 67 assunzioni sono in programma tra il 2019 e il 2020 per rafforzare i centri per l'impiego della Liguria. Lo ha stabilito la Giunta regionale. La Liguria infatti ha ricevuto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro per rinforzare le funzioni dei centri per l'impiego. La Regione ha così deciso di inserire 67 nuovi operatori a tempo determinato, in possesso di specifiche competenze in linea con le nuove funzioni. La ripartizione del personale, ha specificato l'assessore Gianni Berrino, andrà incontro alle specificità di ciascun territorio tenendo conto delle caratteristiche dell'utenza. È un 2019 quello che sta per aprirsi con una notizia positiva per il mondo del lavoro del Tiguglio. Due realtà importanti del territorio e negli ultimi tempi in difficoltà la Algo di Ne e l'Amiraglio di Leivi, aziende del settore della componentistica per le auto, si sono fuse per dare maggiore sicurezza e continuità alla loro produzione. Un centinaio di lavoratori che saranno operativi nel rinnovato stabilimento di Leivi e sono previsti investimenti per 300 mila euro. Sentiamo. L'unione fa la forza, un motto valido in questo caso anche dal punto di vista del lavoro. Grazie alla fusione in un unico polo produttivo, due realtà in difficoltà negli ultimi tempi, la Algo di Ne e l'Amiraglio di Leivi, iniziano il 2019 con la certezza di un futuro migliore e per quanto possibile più tranquillo. Visti gli investimenti che ammontano a circa 300 mila euro crediamo che in prospettiva, visti anche gli accordi fatti, questa azienda possa rimanere sul territorio, rafforzarsi e dare del lavoro al nostro territorio. Viste anche le ultime vicende purtroppo che conosciamo dell'Astro invece in controtendenza che hanno portato via degli importanti risorsi al nostro territorio. Quasi un centinaio i lavoratori occupati nella nuova realtà che produrrà sempre componentistica per auto, la cui fusione diventerà operativa e ufficiale dal prossimo 7 gennaio. Nel polo di Via Gazzo a Leivi è stata trasferita anche la camera iperbarica, prima operativa nello stabilimento della Algodine e sono in previsione ulteriori investimenti. Sono stati previsti degli investimenti in ottobre che sono già cominciati, ad esempio hanno cominciato a comprare delle nuove postazioni di lavoro ergonomiche per migliorare ovviamente la postura e la capacità lavorativa dei lavoratori e ovviamente da parte dell'azienda anche implementare la produzione. Durante questo passaggio non sono stati persi posti di lavoro, sono state nel frattempo anche acquisite nuove commesse. Sì, la scelta di Algodine è stata quella di far rientrare dalle produzioni che avevano spostato. Secondo loro doveva essere una cosa strategica in Polonia, hanno pensato di riportarle in Italia per cercare di confermare tutti i lavoratori che erano in forza al momento. Stanno cercando nuove commesse, nuovi mercati. Il Comune di Chiaveri attinge poco più di 67 mila euro dal fondo di riserva del bilancio di previsione corrente per l'affidamento di due incarichi professionali. Si tratta della redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione energetica dell'edificio e degli impianti di due strutture, la piscina di Largo Pessagno e la sede del commissariato di polizia di Corso Brizolara. Per la prima l'investimento di 29 mila 310 euro, per il secondo di 38 mila 68 euro. La Giunta regionale ha deliberato i contributi destinati alla difesa del litorale. A Chiaveri andranno 26 mila 543 euro, cifra che sarà utilizzata dal Comune per la messa in sicurezza delle aree colpite dalla mareggiata di fine ottobre. Regione Liguria, ricordiamo inoltre, ha prorogato dal 31 dicembre di quest'anno, al 30 aprile 2019, il termine per l'utilizzo dei fondi assegnati durante lo scorso anno, in modo da garantire la possibilità di realizzare le opere e gli interventi necessari al ripristino dei danni provocati dagli eventi calamitosi dello scorso ottobre. Di qui la soddisfazione del sindaco Marco Di Capua. Casarza Ligure ancora una volta chiede chiarimenti sulle tariffe dell'acqua, in particolare sulla quota dovuta per la depurazione. I cittadini del Comune infatti pagano per un servizio sul quale ci sono molti dubbi, più volte espressi dall'amministrazione e confermati anche da alcune sentenze. Ieri durante la seduta della conferenza metropolitana il sindaco si è astenuto sulla pratica di approvazione delle tariffe. Sentiamo. Sapere con certezza se il contributo pagato in bolletta dai cittadini di Casarza Ligure per la depurazione sia dovuto o meno. È quello che ha chiesto ancora una volta il sindaco del Comune della Valpetronio che si è astenuto durante il voto della conferenza metropolitana sulla pratica che ha adottato le tariffe del sistema idrico integrato provinciale. Stagnaro ancora una volta ha fatto verbalizzare la richiesta con la quale chiede che vengano approfonditi i dati tecnici del rotostaccio di Riva Trigoso dove confluiscono i liquami dei casarzesi. Chiedo delle citazioni sulla funzionalità del rotostaccio di Riva Trigoso perché ci sono molti concittadini che stanno facendo delle cause presso il Tribunale Ordinario perché mettono in dubbio il pagamento della quota di depurazione in quanto tale impianto non è da molti considerato un depuratore a tutti gli effetti. Ho chiesto a città metropolitana che vengano forniti i dati ma non mi sono stati ancora forniti. Diciamo che la protesta nasce dal fatto che nella bolletta dei cittadini in questo caso di Casarza Ligure ci sia una quota che è destinata all'impianto di depurazione ma ad oggi un impianto di depurazione vero e proprio non c'è ancora e ci sono cause proprio intentate dai cittadini nei confronti di IREN per avere un rimborso di questa quota. È proprio così. Infatti io prendo con il dovuto a soddisfazione il fatto che si è scelto un sito in località Aramaia dove verrà fatto il nuovo depuratore ma ad oggi esiste un impianto che si chiama rotostaccio però i cittadini pagano la quota di depurazione anche se il depuratore non c'è. Quindi ho chiesto a città metropolitana e all'ente d'ambito di fare una riflessione seria dal punto di vista tecnico perché se i cittadini dovessero vincere le cause si creerebbe un problema anche dal punto di vista di risarcimenti. Quindi è bene pensarci prima e valutare molto attentamente la questione. Cronaca rubavano la borsa o il portafoglio alle persone in viaggio sugli autobus scegliendo in particolare donne anziane come vittime. La polizia di Chiavari li ha arrestati ieri al termine di un'attività di indagine che si è concentrata intorno a due soggetti, due uomini che avevano alle spalle numerosi precedenti per questo tipo di reato. Vediamo com'è andata. L'indagine è scattata a seguito di un furto commesso il 21 dicembre e ieri mattina la polizia ha predisposto un servizio in abiti civili. Gli agenti hanno individuato i due mentre salivano su un bus a Caperana diretti a Chiavari. Alla fermata successiva è salita una poliziotta che ha osservato le mosse dei due in stretto contatto radio con i colleghi che la seguivano in auto. L'agente ha visto il primo dei due un sessantenne che coperto dal complice che ha ben 88 anni ha infilato la mano nascosta da una giacca piegata sull'avambraccio nella borsa di un'anziana passeggera e dunque derubandola del portafogli. Appena scesi alla fermata di Piazza Roma i borseggiatori sono stati fermati dai poliziotti che hanno così potuto recuperare il bottino. Gli arrestati privi di fissa dimora in questa provincia sono sospettati oltre che dei furti con destrezza commessi sui mezzi pubblici anche di borseggi compiuti nei mercati del Tiguglio. Non a caso erano diretti a Chiavari dove il venerdì mattina si tiene il mercato. Il sessantenne è italiano mentre l'ottantottenne è straniero sono finiti in manette per furto con destrezza in concorso. I carabinieri di Chiavari hanno sorpreso un giovane che stava cercando di vendere materiale pirotecnico abusivo. I militari hanno trovato e sequestrato quasi 200 fuochi d'artificio di categoria proibita nascosti all'interno di un'autovettura. Il 29enne Chiavarese è stato deferito per vendita abusiva di artifici pirotecnici. Avete visto anche la foto. Cambiamo tema. A Natale è anche l'occasione per risentire la voce dei missionari che sono amici della nostra diocesi. Questa sera sentiamo le novità dal Burundi dove da qualche tempo è tornato Don Grassien New Era e per alcuni anni sacerdote nel territorio della chiesa chiavarese. Coltivare i campi e utilizzare il trattore. Qual è la situazione grassienne di questi progetti? Rispetto al primo anno che dovevo chiedere il terreno che non sapevo da dove iniziare e cosa presentare e cosa fare adesso ho trovato delle persone che mi danno delle indicazioni ho presentato tutti i documenti pensavo che già verso agosto di quest'anno mi avessero dato il permesso di cominciare il progetto proprio invece mi hanno detto di aspettare qualche mezzetto che devono ancora riunirsi il ministero che si occupa dei terreni per cui ho qualche speranza di poter penso marzo o anche prima iniziare a fare il progetto come l'avevo sognato quello di cortivare. Invece per quanto riguarda il trattore c'è un direttore nel ministero dell'agricoltura che mi ha chiesto di poter utilizzare questo trattore in un centro di ricerca dove hanno tantissimi campi per sperimentare alcuni semi. Qual è lo spunto di riflessione che avete seguito per questo Natale? Il problema che noto sempre nei nostri forse in Burundi per non dire in tanti paesi dell'Africa è che viene meno sempre il senso della responsabilità il Natale è come un prepararci al Natale come il tempo di svegliarci da questo sono che ci immerge nell'irresponsabilità nella mancanza di questa consapevolezza verso il dovere anche il dovere civile anche il dovere cristiano quando uno matura la sua consapevolezza la sua identità di quello che è nasce anche questo senso del dovere di quello che deve fare per il bene di tutti e allora in questo tempo di avvento abbiamo lavorato tantissimo su questo con i ragazzi Torniamo sul nostro territorio la solidarietà spesso corre sulle notte della musica e anche il concerto omaggio a Degno Morricone tenuto dall'orchestra Chiavari Classica con alcuni solisti d'eccezione non ha tradito questo binomio la serata che ha proposto brani coinvolgenti è stata organizzata dall'associazione Simon Boccanegra Onlus a sostegno del villaggio del ragazzo siamo andati a vedere concerto di Natale all'auditorium di San Francesco con l'orchestra Chiavari Classica insieme al maestro Francesco Gardella un grande successo c'era una partecipazione del pubblico un'emozione che era veramente tangibile Sì, devo dire poteva forse sembrare strana la scelta di un programma dedicato a Morricone nel periodo di Natalizio ma secondo noi è musica che proprio crea emozioni dalla prima nota all'ultima perciò ci sembrava la musica adatta ribadisco come ho già detto tante volte che è sicuramente il musicista il compositore italiano più conosciuto al mondo in questo momento perciò nell'anno dei suoi 90 anni di età e 60 di carriera ci sembrava giusto questo omaggio Un augurio speciale salendo sul palco da parte della Presidente dell'Associazione con un bimbo speciale chi è Jonathan? Jonathan è un bambino appunto speciale un bambino da aiutare grazie all'Associazione del CAV che stiamo aiutando insieme alla mamma e quindi Jonathan diciamo che è il nostro bambino Gesù da accogliere e da amare abbiamo avuto l'8 dicembre già un concerto qui all'Auditorium oggi è stato il concerto di Natale che l'amministrazione di concerto ha voluto offrire alla cittadinanza avremo poi il concerto di Capodanno il 4 gennaio appuntamento col grande jazz col maestro Enrico Rava e poi avremo anche il 13 gennaio e il 27 gennaio Chiavari apprezza questi concerti è un pubblico esigente e noi cerchiamo di offrire dei concerti di alta qualità Il servizio autobus di ATP sarà garantito anche nella giornata di Capodanno con partenze dalle 13 e fino alla sera lo fa sapere l'azienda che chiude il 2018 con tante buone notizie a cominciare dall'acquisto ormai definito di una quarantina di nuovi mezzi che si aggiungono a quelli già presentati a metà dicembre arriveranno a metà gennaio e saranno usati nei tratti urbani ed extraurbani si legge nella nota Tariffe agevolate domani, domenica nel parcheggio di Via La Marmora gestito dalla Metro Park la società ha colto la richiesta del sindaco per agevolare lo svolgimento del recupero del mercato settimanale e ampliare la possibilità di parcheggiare le tariffe dunque saranno di 80 centesimi per ogni ora o frazione quella giornaliera di 6 euro valida dall'orario di inizio sosta e sino a mezzanotte il Natale di qualche anno fa era più semplice di oggi ma prevedeva alcuni riti irrinunciabili tra cui le celebrazioni in parrocchia con gli arredi e le vesti più pregiate le poesie recitate a tavola e il gusto delle cose fatte a mano a Cicagna l'associazione Il Piffero ha voluto farlo rivivere per il secondo anno nel centro storico vediamo l'associazione culturale Il Piffero è nata poco più di un anno fa da un gruppo di persone già impegnate nel mondo del volontariato con lo scopo di studiare e divulgare la storia e le tradizioni locali con particolare riferimento a quelle di Cicagna e della Val Fontana Buona il primo evento che ha tenuto a battesimo è stato nel dicembre del 2017 Natale de Navotta una manifestazione che si è ripetuta anche quest'anno una vera e propria festa che fa riassaporare le caratteristiche del Natale di alcuni decenni fa lo scopo oltre a quello di dare voce a un artigianato di qualità artisti che comunque si occupano in vari campi di arte e artigianato e operano direttamente in Fontana Buona e particolarmente nel territorio di Cicagna nasce anche con lo scopo di far rivivere il centro storico del paese noi abbiamo a Cicagna un bellissimo centro storico che purtroppo in questi ultimi anni è stato abbandonato da tutte le attività che erano presenti e ve ne erano parecchie i fondi ormai in disuso del centro storico di Cicagna sono stati riaperti sistemati e messi a disposizione di vari operatori per far conoscere i loro prodotti artigianali parallelamente nella storica Villa Cavagnari è stata inaugurata una mostra dedicata agli arredi sacri della chiesa di San Giovanni Battista la parrocchiale di Cicagna si riferisce agli oggetti sacri quelli che abbiamo trovato della vecchia chiesa di Cicagna e anche recenti quindi abbiamo trovato vecchi candelabri messali e abbiamo collegato a questa mostra anche i damaschi che sono sempre stati presenti durante le feste nella chiesa di Cicagna in questo contesto è stato presentato anche l'ultimo libro di Walter Fochesato dedicato alle poesie di Natale lette a scuola qualche decennio fa è una ricerca che ho compiuto sui libri di lettura e sulle raccolte sulle antologie di autore italiani tra la fine degli anni 40 e gli anni 70 dunque è un libro che come dire tenta di giocare sugli immaginari e sui ricordi di infanzia sulle memorie torna domani l'appuntamento con il presepe vivente di Villa Tassani a Sesti Levante giunto alla 32esima edizione l'inizio alle 15.30 seguirà la messa la sacra rappresentazione organizzata come sempre dal circolo Acli Villa Tassani insieme al comune e all'associazione in compagnia di Mozart ed è aperto alle visite il presepe tradizionale allestito all'oratorio San Rocco a Prati di Mezzanego si può ammirare fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni di sabato 12 e domenica 13 gennaio sempre dalle 14.30 alle 18.30 l'Accademia della Ciappa di Cogorno ha organizzato l'undicesima tradizionale festa di inaugurazione del presepe alla Cappella di San Bartolomeo il tema di quest'anno il presepe sognato dai bambini la realizzazione di questo progetto ha come obiettivo la riscoperta da parte dei più piccoli del messaggio della natività calata nei nostri giorni l'associazione ha invitato gli alunni della scuola dell'infanzia Benedetto Chiappe della primaria di Cogorno capoluogo a costruire a scuola insieme alle insegnanti il proprio presepe all'inaugurazione hanno partecipato i genitori degli alunni il sindaco e l'amministrazione l'evento è stato accompagnato da canti e poesie anche in lingua inglese proposti dai bambini delle due scuole c'era anche il parroco Don Stefano Libini i presepi state vedendo le immagini sono esposti all'interno della Cappella di San Bartolomeo il lavoro si basa sul riciclo del materiale così come i costumi dei bambini della primaria che hanno proposto il presepe vivente e quindi è stata in conclusione un'esperienza capace di aiutare gli adulti a ritrovare il vero significato del Natale l'ultimo servizio è sportivo parliamo dell'ultimo impegno agonistico del 2018 per la Virtus Entella che domani sarà impegnata al Comunale di Chiavari contro il Gozzano il match è in programma alle 12.30 ma sentiamo l'intervista al portiere Samuele Massolo intervistato da Nicola Pagliettini due vittorie consecutive e soprattutto una fase difensiva che sta funzionando alla grande la solità dell'Entella si costruiscono da qui queste vittorie beh sicuramente se vuoi fare un campionato ottimo devi comunque partire dalla difesa e infatti le squadre che vincono i campionati sono anche quelle che subiscono meno gol e noi dobbiamo cercare di lavorare ancora di più su questa cosa anche se nelle ultime due uscite abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo cercare di continuare così l'impegno di domenica contro la squadra che detiene il primato per quanto riguarda le vittorie e le partite in trasferta che tipo di partita sarà perché l'ultima prima delle vacanze nasconde sempre tante insidie ma sicuramente sarà la partita più difficile della stagione perché loro comunque sono una squadra solida e sicuramente non sarà assolutamente facile però noi dobbiamo cercare di dare tutto per poi goderci le vacanze al meglio e staccare un pochino la spina è stato un girone d'andata caratterizzato da tanti avvenimenti positivi e negativi per chi è stato un girone d'andata importante? Beh sì dai direi che nel complesso è stato un girone d'andata positivo e sicuramente non mi sarei mai aspettato di fare tutte queste partite però sono felice di aver messo un pochino di minutaggio nelle gambe e spero nel giorno di ritorno di continuare così 315 mila euro è la cifra che il comune di Chiaveri ha stanziato per le associazioni assistenziali di volontariato ed enti cittadini con finalità di interesse pubblico la cifra è stata così suddivisa 133 mila e 500 euro per i sodalizi assistenziali 86 mila e 500 per quelle culturali 50 mila per quelle sportive 45 mila circa per coloro che operano nel settore turistico l'associazionismo e la cultura della condivisione ha spiegato il sindaco contribuiscono sempre di più allo sviluppo e alla coesione sociale e questa evoluzione a concluso va incoraggiata proseguono gli attracchi gratuiti a Portofino la marina infatti ha deciso di offrire gli ormeggi gratis alle imbarcazioni che decidono di attraccare durante le festività natalizie fino al 6 gennaio molti coloro che hanno deciso di approfittare dell'iniziativa e oggi ad esempio ha fatto il suo ingresso nella magnifica insenatura San Gennaro di cui possiamo vedere la foto un ex rimorchiatore d'altura lungo 30 metri e che ha colpito turisti e portofinesi presenti in piazzetta ora vediamo tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani e di lunedì sfogliamo l'agenda di Telepace appuntamenti in agenda per domenica 30 dicembre seconda giornata chiavari per il mercatino dei sapori a partire dalle 10 fino alle 20 specialità gastronomiche di varie regioni italiane in vendita nelle bancarelle di via Rivarola la nascita di Gesù nel cammino dell'uomo è il titolo del concerto natalizio in programma alle 15 nella chiesa dei frati Capuccini di Viale Tappani a Chiavari ad esibirsi il gruppo Antares e la corale parrocchiale di San Quirico e Montepegli di Rapallo dalle 15 alle 18 gioco della tombola aperto a tutti a Casa Carbone di Lavagna l'appuntamento è promosso dal FAI saranno consegnati i premi messi a disposizione da alcuni commercianti lavagnesi alle 15 tradizionale concerto del coro Segesta nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante il coro il soprano Gloria Sinnone e il mezzo soprano Marta Peri saranno accompagnati dall'orchestra da camera Segesta e dall'organista Davide Noceti alle 15.30 nella chiesa di San Giacomo di Gattorna canti della tradizione popolare natalizia con il coro del gruppo Folk o Castello di Favale di Malvaro nell'ambito del concorso Presepi in Fontana Buona Gli Invasati è il titolo della performance comica itinerante che coinvolgerà Santa Margherita Ligure a partire dalle 16 gli spettacoli attraverseranno le vie del centro città alle 16 nella chiesa di San Martino di Zoagli concerto siamo giunti Ecco Betlemme dell'associazione musicale Canticorum Jubilo con l'orchestra Iano Ansamb direttore Carlo Prunali soprano Chiara Bisso voce narrante Cinzia Macchia alle 21 in località Vico Soprano di Re Zoaglio serata di teatro e canti tutti a teatro con i bagai di San Anzang e il coro La Contrada concerto di Natale alle ore 21 nella chiesa di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure ad esibirsi l'organista Rodolfo Bellatti e il mezzo soprano Lorenza Cevasco e ora vediamo gli appuntamenti per lunedì 31 dicembre capodanno al Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure alle 22 spettacolo di cabaret con Andrea Carlini e Andrea Di Marco dei Brugia Baracche dalle 23 e 30 DJ7 con Matteo Ponzano e Miguel Gari Veglione di Capodanno con l'orchestra Macio a Chiavari dedicato al ballo liscio inizio alle 22 al Porto alle 22 e 30 invece in Piazza Mazzini musica dal vivo a partire dagli anni 60 e DJ7 da mezzanotte e mezza in Piazza San Giacomo di Rupinaro tradizionale zabaionata del gruppo Ommi de Ruina e infine alle 21 in Piazza Matteotti a Sesti Levante Capodanno in collaborazione con la Croce Verde mostra, proiezioni e brindisi finale a partire dalle 22 invece alla Torre dei Doganieri Si conclude così questa edizione del Telegiornale ci ritroviamo lunedì grazie per averci seguito buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti arrivederci a tutti a tutti Grazie a tutti.